Una poderosa offensiva nei territori occupati dai russi nella regione di Kherson, la città del sud del paese, liberata nell'autunno 2022, sarebbe uno degli obiettivi principali delle prossime fasi della controffensiva a Ucraina. Le truppe di Kiev hanno guadagnato quasi due chilometri nell'ultima settimana, nonostante i campi minati e i continui bombardamenti nell'area. Un portavoce delle guardie di frontiera a Ucraina ha affermato che il numero dei soldati russi dislocati in Bielorussia, 2000 in tutto, è fortemente diminuito e che non è stato osservato un dispiegamento organizzato di mercenari russi del gruppo Wagner per l'addestramento di soldati bielorussi.